ok per fare questo esercizio la posizione in partenza è quella dell'orso quindi mani sotto le spalle in occhio sotto le anche da qui solleviamo il sedere mantenete bene allineate spalle e bacino andremo a muoverci verso lato verso l'altro quindi mano e gamba dello stesso lato andranno a muoversi simultaneamente da una parte o dall'altra grazie